In questo romanzo, che alcuni giustamente definiscono crime o poliziesco, io preferisco collocare un'etichetta di mia creazione, che è il romanzo di investigazione. Sembra la stessa cosa e forse lo è, ma a me piace la parola investigazione perché allude all'investigazione criminale, che nel romanzo c'è. C'è una storia investigativa di tipo classico, ma c'è soprattutto, ed è quello che mi interessa di più, l'investigazione sull'animo umano, la ricerca interiore, soprattutto della protagonista, che in qualche modo è specchio di quello che accade nel mondo fuori.